ciao allora oggi come avete visto dal titolo ebbene sì vi parlo di it cosmetics perché da qualche tempo è finalmente arrivato in italia ed è un'esclusiva di douglas e quindi collaborando con loro e mi hanno inviato questo set si questo set della linea confidence confidence your on the go confidence quindi quella per le pelli da mist a grasse questo è il kit che comprende due prodotti che adesso andiamo a estrarre eccoli qui e comprende e ve li mostro ovviamente tutti e due la eccola qua confidence in a cream quindi la crema per i contorni occhi e la confidence in in a gel l'ossian quindi il siero crema gel per il viso allora partiamo con la crema prima di tutto ed è ve la mostro allora la confezione in questo caso io avevo una mini taglia perché era un mini set però mi è durata un bel po alla confezione è questa se mai penserà di metterla a fuoco ok meglio ok allora il prezzo torniamo luce ok il prezzo è 15 ml viene 39 e 95 ed è ovviamente in esclusiva douglas online e nei store allora visto che qui le istruzioni sono le istruzioni le indicazioni spero che mi perdonerete ma sono piccolissime lo vado a leggere direttamente dal sito che comunque vi lascio lo screen così lo potete leggere anche voi per vedere anche l'inci e dice di avere crema contorni occhi che presenta una formidabile datazione azione rassodante e riduzione dell'aspetto delle rughe e dell'indespressione idrata il tuo contorni occhi e ti aiuta a ridurre l'aspetto delle occhiaie ma perché da così lontano il computer me lo posso anche avvicinare l'aspetto degli occhiaie nuance calda derivata dalle albicocche e la nostra tecnologia drops of light per una correzione cromatica immediata ed un contorno occhi più luminoso il nostro concentrato anti aging abbinato ad altri ingredienti lavora per idratare, levigare e rinfrescare l'aspetto del tuo sguardo risultati meravigliosi dalla prima applicazione scusate devo andare avanti e ancora più importanti con un'applicazione costante allora dunque prima di tutto vi ho fatto la clip con l'applicazione del prodotto così vedete anche voi come va applicato e come si comporta e come la texture la clip con l'applicazione del prodotto quindi direi che è una texture abbastanza leggera che si stende bene sul viso e assorbe molto velocemente quindi va bene mattina e sera la mattina tranquillamente ed è come base make up non dà nessun tipo di problema non ha profumo si ha un profumo molto leggero si comporta molto bene da questo punto di vista dunque io comunque vi quella clip non è una clip è lo screen della loro descrizione ve la inserisco perché così vedrete la lista ingredienti un po' tanti per una crema contorno occhi idratante perché si è idratante lascia bello idratato bello morbido l'azione luminosa è molto 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 blanda perché con lo swatch vedete dalla confezione che sembra luminoso dallo swatch sembra luminoso applicato non si vede niente appena assorbe non si vede niente quindi azione illuminante zero molto molto blanda non va a correggere l'iscromia dei contorno occhi non va a migliorare l'aspetto dei contorno occhi una crema idratante che si è una crema idratante ok ma visto l'inci e visto il prezzo di 39,95 io sinceramente non voglio essere cattiva ma credo che per questo prodotto ci siano cose migliori ma dato che il kit conteneva due prodotti ora veniamo alla heat confidence in a gel lotion oil free for all skin of time allora questa è la crema viso per tutti i tipi di pelle in gel quindi adatta alle pelli miste prima di tutto il prezzo 60 ml 49,95 come sempre un esclusivo a Douglas quindi solo da loro in negozio o online e adesso mi riavvicino al vediamo cosa dice allora crema di rapidissimo assorbimento in grado di conferire alla tua pelle un aspetto sano tonico e ringiovanito adatta a tutte le tipologie di pelle anche a quelle più sensibili e secche questa crema anti-età è studiata per immergere la tua pelle in una sensazione immediata di idratazione donare un aspetto rimpolpato e ridurre l'aspetto di rughe e linee di espressione così come quello di pori dilatati e piccole discromie dell'incarnato arricchita di concentrate eccetera 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 ci sono tre pagine di iscrizione ma noi adesso sempre la stessa cosa vi lascio lo screen perché anche lì l'inci e noi veniamo un attimo alla crema allora si tratta di una gel oil free dice adatto ad ogni tipo di pelle ma io la trovo adatta soprattutto alla pelle mista e grassa comunque sia come di tutti i prodotti che vi ho mostrato due vi lascio la clip con l'applicazione così vedete come si comporta la texture e durante l'applicazione di un'applicazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. È leggerissima, basta poco prodotto, si stende benissimo perché è un gel e assorbe immediatamente, quindi anche come base per il make-up non dà nessun tipo di problema. Il profumo è fresco ma non è invadente. L'ho applicata solo al mattino, non alla sera in questo caso perché per una volta che ho una crema per il giorno la sfrutto in questo modo. Devo dire che mi è piaciuta, ma ve l'ho mostrata. Oggi le luci non vogliono collaborare, quindi noi, fortuna che ho il telecomando, le riabbassiamo. Vi mostro la crema e poi le rialziamo. Fortuna che ho il telecomando. E questa è modernizzazione. Allora, vi ho detto che è una crema in gel, facilissima da applicare, facilissima da stender, assorbe immediatamente, troppa luce, sembra una barbola d'urso. E sì, mi è piaciuta ed è applicata come base make-up e non va a lucidare più velocemente la pelle, non va a far spostare il trucco, quindi ottima. Ecco, unica cosa, non la consiglierei al mattino, prima del trucco, nella stagione calda, ovviamente, ma perché tendiamo a reggere davvero poco. Però ha un potere idratante medio, si comporta bene, questa mi è sicuramente piaciuta di più. Diciamo che questo effetto pelle trasformata è una crema idratante per il giorno, si applica bene, si comporta bene. E sì, allora, credo che queste super descrizioni siano un po' troppo esagerate, però effettivamente è un brand che appena arrivato in Italia, super chiacchierato, super famoso, voglio far vedere che è magico. Non è proprio così, però è una buona crema, cioè è buona, per la mia pelle mista nel periodo invernale ha un buon potere idratante, non me la lucida e quindi si comporta bene. Però adesso io voglio sapere assolutamente da voi, se conoscevate questo brand, è It Cosmetics, se avete provato qualcuno di questi prodotti, se qualcosa vi incuriosisce, Io spero che, appello alla Douglas, vorrei provare anche i vostri prodotti di make-up, se è possibile qualcosa, sono curiosa, perché ne parlano molto bene, ma forse dopo aver quasi bocciato questi, non ne ho bocciati, perché questo funziona e questo mi piace. Non è tutto questo super wow, ma ci può stare. Però mi sono piaciuti, una delle poche creme che io applico al mattino, quindi è più di così. E niente, fatemi sapere le vostre impressioni, io spero di avervi fatto conoscere qualche prodottino nuovo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao! Ciao!